E' stato presentato a Villa Arianna a indagare il sottosuolo Atlante delle Storie Omesse, un progetto di Lara Favaretto presentato dalla Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee e Museo Madre e dalla Fondazione Sandretto Re Re Baudingo. Con l'Atlante delle Storie Omesse, Lara Favaretto propone un'indagine del territorio volta a tracciare una mappatura di zone sensibili, luoghi che custodiscono nel sottosuolo tracce di storie laterali e dimenticate e che riportate alla luce attraverso carotaggi, dopo essere state mostrate, studiate e catalogate in una scatola di conservazione, saranno archiviate in un contenitore di ferro che verrà sigillato e sepolto come time capsule. Il progetto straordinario di una grande artista, questa ricerca sulle storie omesse che hanno previsto dei carotaggi fatti un po' ovunque, nell'area vesuviana, da Pompei, anche siti periferici, i cosiddetti, vuole raccontare quello che non è stato raccontato, ma soprattutto scavare nella memoria, la memoria che spesso per recuperarla bisogna scavare nei lapilli, bisogna scavare nei flussi piroclastici e sono molto anche toccato dal fatto che per una coincidenza stranissima, oggi, 25 ottobre, se le ipotesi dell'oppostamento della data dell'eruzione colgono nel segno, oggi è proprio l'anniversario della fine dell'eruzione, cioè quando tutto è cominciato, diciamo quando il tempo si è fermato qui ed è cominciata questa seconda vita di Pompei, Pompei trasformata da storia in natura e poi di nuovo in storia, da riemergere delle rovine a partire dalla metà del Settecento. Castellammare merita un'attenzione profonda da parte di tutte le istituzioni, non possiamo essere solo noi, Parco archeologico di Pompei, a risolvere i problemi di un sito complesso, quanto straordinario, io invoco di nuovo una sinergia fra tutti i componenti che operano su questo territorio, con il comune, con il nuovo sindaco, siamo già, mi sembra, in sintonia, quindi si sta lavorando insieme, ma qui bisogna risolvere tantissimi problemi, a cominciare dall'accessibilità a queste aree, oltre che alla protezione di questo costone, che è pericoloso dal punto di vista del distesto idrogeologico. Ovviamente tutta una serie di attività che richiedono un intervento plurimo di competenze e di istituzioni. Questo progetto parte in realtà molto prima di oggi, parte da una ricerca già fatta a Kabul e poi successivamente in Cappadocia dall'artista che sta lavorando su quest'idea del carotaggio, cercando di riscontrare all'interno del carotaggio il DNA della terra che viene fuori. Quindi il carotaggio è visto proprio come una restituzione della storia stessa del territorio che poi emerge e viene collegata appunto alle altre storie che vengono ricercate. In questo caso specifico il processo è stato molto lungo e complesso a partire appunto dalla ricerca di storie legate al territorio per riuscire a rappresentarne la complessità e poi alla comparazione che viene fatta dopo il carotaggio con la lettura archeostratigrafica dello stesso. Quindi questa relazione strettissima fra una storia comunque occultata o messa che viene fuori molto spesso anche dal rapporto con la popolazione e dal racconto anche orale messa poi in connessione con quello che invece la terra stessa restituisce che quindi sia a livello archeologico, geologico e stratigrafico può essere letto. Questa lettura diviene fondamentale nel momento in cui i carotaggi vengono interrati. Quindi questo è un momento espositivo di una durata abbastanza limitata ma il punto focale sarà il fatto di reinterrare quindi riportare questa stratificazione temporale che viene letta in epoca contemporanea e tramandarla nel futuro attraverso questo interramento alle pendici del Vesuvio di tutti i carotaggi con un contratto che prevede la riesumazione di questa capsula fra cent'anni e quindi la rilettura di tutti i dati che sono emersi attraverso i carotaggi. E contestualmente ci saranno delle placche in tutti i luoghi dove i carotaggi sono avvenuti riportando i dati per far sì che ci sia anche una sorta di museo diffuso che documenta il punto esatto anche proprio a livello di coordinata geografica dove le estrazioni sono state effettuate.